Io voglio raccontare la storia della FIERDA, come è nata FIERDA, l'idea che ha avuto con la FIERDA. La FIERDA è nata per un'esigenza di mercato dei prodotti Gebirnit. Le prodotti Gebirnit sono raccordi, tubi, chi ha del mestiere la conosce. Dopodiché, per l'esigenza anche di mercato di un magazzino attrezzato per tutto quello che concerne sanitario, riscaldamento, latoneria, ho ampliato il settore. Creando il settore, prima con un piccolo magazzino qui, dove attualmente ci sono le piastrelle, e il mercato sempre più esigente, ho fatto l'esposizione. Abbiamo creato lo spazio per piastrelle, cucine, parchè. Siamo un'azienda leader di un certo livello, con i nostri collaboratori. Cerchiamo di dare il miglior servizio alla gente con dei prodotti di ottima qualità, prodotti che vengono prima selezionati da noi. Penso che di aver raggiunto, grazie alla collaborazione dei miei figli, attualmente sono loro che dovranno e devono seguire il mio cammino. Perché con le mie 70 primavere, penso che è giunto anche il momento di rilassarmi un attimino. Anche se mi è difficile, se sono qui perché il piacere di lavorare non manca. Abbiamo l'ottimo personale, sempre si prosegue per migliorare, per dare il massimo sia per le nuove costruzioni o per la ristrutturazione. E questo è quello che è la fine. Grazie a tutti i nostri amici.